buonasera io sono alessandro guidi direttore del centro studi d'arte estremo orientale e queste due conferenze sono organizzate in collaborazione con il sistema museale di ateneo di bologna allora queste due conferenze sono in realtà un supplemento al ciclo di conferenze sull'era meiji della rassegna di aprile che si chiamava kaleidoscopio giappone che è stata realizzata dal centro studio d'arte estremo orientale con il museo con il sistema collaborazione con il sistema museale di ateneo e con l'università di yamagata allora nella mia conferenza sull'era meiji di quella rassegna avevo dichiaratamente trascurato il tema della inaspettata fioritura scientifica di quel periodo e mi riservavo così di approfondire la cosa ed eccomi qua quindi allora rinvio a quella conferenza che adesso la mia conferenza sull'era meiji sul quadro storico dell'era meiji che adesso trovate sul canale youtube della del sistema museale di ateneo dicevo rinvio a quella conferenza per il quadro generale dell'era e mi concentro qui appunto su un tema che non è mai trattato normalmente nelle nelle storie del giappone nelle storie culturali del giappone in cui spesso si parla di tutto ma mai dell'apporto scientifico e e quindi queste sono forse le 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 forse non lo so le prime conferenze mai fatte in italia su questo tema forse sono anche le ultime non lo so comunque allora il il giappone ha una diciamo una trentina d'anni dalla dall'apertura forzata al mondo esterno 1853 era già in grado di produrre scienziati di livello mondiale e e questo può sembrare un miracolo ecco però questo miracolo tra virgolette si spiega in parte con con quello che era successo nei 150 anni prima che precedono la restaurazione meiji del 1868 e infatti nel 1720 lo lo shogun il capo militare del giappone lo shogun yoshimune e cosa fa toglie il bando alla importazione di libri stranieri purché non parlassero di cristian di cristianesimo quello era sempre vietato e anzi con questo decreto viene incoraggiato lo studio della lingua olandese e perché l'olandese perché perché gli olandesi erano gli unici occidentali a cui era concesso di avere rapporti con il giappone infatti su una isoletta di fronte a nagasaki che è questa isoletta qua in questa in questo dipinto della metà dell'ottocento questa isoletta de jima dicevo di fronte a nagasaki viveva una una piccola colonia di olandesi e questi olandesi tra le altre cose commerciavano direttamente con il con il clan militare dominante dei tokugawa e quindi sostanzialmente dopo il 1720 cominciano a entrare in giappone libri di vario genere per lo più appunto in olandese e in giappone cosa succede che alcune persone soprattutto samurai ma non solo cominciano a ad appassionarsi di queste di queste cose nascono così i cosiddetti studi olandesi in giapponese ranga una pagina molto interessante della della storia culturale giapponese su cui trato mi riprometto in futuro di fare una un'altra conferenza che cosa diceva nasce una passione sostanzialmente per le cose gli oggetti le idee e le meraviglie che che provenivano dal misterioso occidente quindi una sorta diciamo così di esotismo speculare a quello nostro nei confronti dell'oriente allora molti di quei testi che arrivavano in giappone erano anche testi scientifici quindi testi che parlavano di astronomia parlavano di botanica di anatomia e questi studiosi di rangaku si resero conto abbastanza rapidamente che in molti campi l'europa era molto più avanzata della cina di quella cina che da secoli era il modello culturale per l'élite colta giapponese ad esempio i giapponesi dopo dopo aver fatto alcune dissezioni anatomiche si convincono che l'interno del corpo è fatto proprio come dicevano i libri europei e che quindi i testi cinesi testi di medicina cinese erano sbagliati e qui a sinistra vedete uno dei frutti di questa attività questo kaitai shinsho è che cos'è è in realtà una traduzione di un testo olandese di anatomia illustrato da da un artista giapponese e quindi comincia lentamente con molte difficoltà linguistiche potete immaginare la differenza enorme anche solo foneticamente tra l'olandese e il giapponese se avete mai sentito parlare olandese molte difficoltà linguistiche molti malintesi comunque comincia la penetrazione della scienza delle scienze moderne in giappone un passo in avanti fu l'arrivo in giappone nel 1823 di philippe franz von sieboldt sieboldt era un medico tedesco al servizio degli olandesi e sieboldt resta sei anni in giappone e apre a nagasaki una scuola per insegnare medicina e botanica ma la cosa più importante è che sieboldt introduce in giappone lo studio tramite osservazioni sperimentali cioè introduce la metodologia tipica della scienza moderna e questo era un grande progresso rispetto agli studi rangaku precedenti che erano basati più che altro sulla lettura di libri e non sulla sperimentazione e qui in questo curioso dipinto vediamo sieboldt ritratto mentre osserva con un cannocchiale una nave ecco una curiosità che vi segnala questa bambina qui sieboldt aveva avuto una figlia da una prostituta di nagasaki che è verosimilmente questa donna qua e queste bambine che si chiamava kusumoto ine diventerà il primo medico donna del giappone o meglio la prima donna ad avere ricevuto una istruzione nella medicina occidentale è un personaggio interessante adesso non abbiamo tempo di raccontare la storia ci sarebbe infatti molto altro da raccontare sul rangaku ma preferisco ora passare direttamente al 1868 perché in effetti fu solo a partire dalla cosiddetta restaurazione meiji dal colpo di stato che rovescerà il vecchio governo militare da quel momento sarà solo da quel momento che le moderne scienze europee furono introdotte in modo sistematico in giappone grazie alla volontà dei governi giapponesi di raggiungere al più presto lo stesso livello scientifico e tecnologico delle potenze occidentali e la cosa incredibile che ci riusciranno nel giro di pochi di una ventina d'anni o poco più diciamo allora le scienze moderni furono introdotte in giappone soprattutto grazie a insegnanti provenienti dall'occidente quasi tutti per quello che riguarda le scienze da da tre paesi sostanzialmente gran bretagna germania e stati uniti e qualche olandese ecco questi insegnanti erano assoldati dal governo giapponese e insegnavano nelle nelle neonate università giapponese e volte anche nelle scuole questo sistema andò avanti fino fino agli anni novanti dell'ottocento quando ormai gli insegnanti stranieri di scienze erano ormai stati quasi del tutto sostituiti da insegnanti giapponesi quindi questo è un momento importante alla fine degli ultimi anni del secolo e qui vi vi mostro due due britannici il chirurgo william willis che fu in giappone molto tempo per vent'anni tra il dal 1861 1881 e qui a destra edward morse personaggio davvero interessante fu colui che introdusse era un biologo e introdusse in giappone darwin quindi la biologia evoluzionistica e scrisse anche un importante libro sulla architettura domestica giapponese quindi era un uomo a tutto tondo dunque l'insegnamento della medicina era per lo più a pannaggio di tedeschi e come vedremo nel corso di queste due conferenze sarà sarà soprattutto la germania il paese con cui gli scambi scientifici furono più fruttuosi allora se da un lato il giappone importava insegnanti dall'altro mandava studenti e studiosi all'estero infatti il ministero del ministero dell'istruzione selezionava gli studenti migliori per mandarli all'estero e ripeto soprattutto in germania e all'estero normalmente venivano accolti bene questi giapponesi perché perché erano bravi erano obbedienti lavoravano sodo e qui vediamo una foto del 1888 fatta a berlino con studenti e studiosi giapponesi che erano attivi in germania è questo qui di questo parleremo kitasato shibasaburo forse il più grande scienziata delle rameggi parleremo lungamente durante la seconda parte la prossima settimana è una curiosità per coloro che tra di voi frequentano la letteratura giapponese questo qui a sinistra è mori ogai che è uno dei più grandi scrittori dell'era meiji ma lui di formazione era un medico e aveva fatto il suo bravo periodo di tirocinio in germania come tanti altri allora in giappone l'istituzione di gran lunga più importante per lo studio della scienza era l'università di tokyo a quell'epoca a quell'epoca poi si chiamava università imperiale di tokyo che era stata creata nel 1877 e questo qui è il vecchio portale dell'università di tokyo oggi naturalmente non c'è più è completamente diverso ecco quindi università naturalmente poi vennero ovviamente fondate come in europa delle società scientifiche dei centri di ricerca cioè tutto ciò che è necessario per fare progredire le scienze e insomma come ho già detto già negli anni 80 il giappone produceva scienziati di levatura mondiale però va detto una cosa che fino agli anni diciamo fino più o meno alla fine del secolo i risultati scientifici più importanti vennero ottenuti all'estero cioè dai giapponesi che facevano ricerca presso i più grandi maggiori istituti di ricerca del mondo soprattutto in germania e invece a partire più o meno dal 1900 giappone aveva già le diciamo le infrastrutture scientifiche e tecnologiche necessarie a produrre scienza di alto livello in giappone in loco e allora cominciamo adesso a conoscere alcuni degli scienziati meggi dunque allora io cercherò sempre di spiegarvi le loro scoperte spero di non dire troppe inesattezze visto che no che io sono un orientalista non sono uno scienziato anche se sono molto appassionato di scienze e di e di storia della scienza allora nagao cantano dunque allora i nomi sono alla giapponese cioè prima il cognome e dopo il nome quindi nagaoka è il cognome nagaoka fu il primo fisico giapponese di livello mondiale nagao si laurea all'università di tokyo e dal 83 al 1901 studia in germania e in austria e vedremo che sarà quasi sempre così per gli scienziati di cui parleremo quindi laureati università di tokyo e poi vanno in germania a perfezionarsi allora nagaoka che credo in italia non conosca quasi nessuno a parte qualche fisico ha un posto ha un suo posto nella storia della teoria atomica beh l'idea che la materia fosse composta di particelle discrete e indivisibili e c'era già è un'idea molto antica c'era già nell'antica grecia e anche nell'antica india e in grecia fu sostenuta da filosofi abbastanza celebri come leucippo e democrito nel mondo romano lucrezio scrisse il dererum natura che è una celebrazione dell'atomismo tra le altre cose dell'atomismo di democrito ecco però l'atomismo essendo stato rifiutato da aristotele conobbe una lunga eclissi in occidente fino praticamente diciamo fino al 1600 più o meno e da lì in poi però le prove cominciarono ad accumularsi e grazie soprattutto all'opera dei chimici più che dei fisici a dire la verità però ancora ancora nella seconda metà dell'ottocento c'erano grandi fisici che dubitavano dell'esistenza degli atomi in fondo nessuno li aveva mai visti questi famosi atomi dunque un momento importante fu nel 1897 quando il fisico inglese jj thompson con i suoi esperimenti aveva scoperto che l'atomo in realtà non è indivisibile cioè non è un atomo perché atomo in greco significa proprio indivisibile cioè cosa significa che l'atomo contiene anche delle particelle negati carica negativa quelli che poi quelle che saranno poi chiamate elettroni e thompson si immaginava l'atomo in questo modo qua che vedete in questo disegno cioè si immaginava un grosso corpo di carica positiva in questa specie di palla verde con tanti elettroni dentro un po come l'uvetta nel panettone e thompson propose questo modello dell'atomo nel 1904 quello stesso anno poco dopo nagaoka e qui entra in scena nagaoka propone un altro modello atomico che fu chiamato modello saturniano che questo qua che tutto sommato è più vicino alla realtà del modello di thompson ammesso che si possa parlare di realtà nella fisica atomica comunque il modello di nagaoka prevedeva un nucleo centrale come un po come quello di thompson e gli elettroni che ruotavano attorno un po come diciamo gli anelli di saturno alcuni anni dopo nel 1911 alcuni esperimenti decisivi da parte del neozelandese rutherford crearono diciamo nacque un nuovo modello dell'atomo che in un certo senso di in parte diciamo così solo in parte ragione a nagaoka anche se il modello di nagaoka fu cambiato in molti dettagli questo è sostanzialmente quel modello da dell'atomo che un po ci hanno abituato a immaginarci a scuola anche se in verità molto lontano dalla realtà nella realtà il nucleo è straordinariamente piccolo ecco se se un atomo fosse grande come uno stadio il nucleo sarebbe un grande come una mosca al centro dello stadio e questo modello planetario vedete il nucleo con tutti gli elettroni che ci girano attorno in realtà sarà superato a sua volta due anni dopo dal modello di Bohr il quale a sua volta sarà poi superato negli anni venti e qui ci fermiamo ecco comunque segnaliamo appunto questo nagaoka che ha il suo posto in questa nella storia dei modelli atomici e questo qui Takagi Teiji è stato il primo matematico giapponese di elevatura mondiale anche lui laureato all'università di Tokyo anche lui si perfeziona in Germania e niente meno che con David Hilbert uno dei più grandi matematici di quegli anni di quel tempo e ecco uno dei risultati più importanti di Takagi Teiji è un teorema di è un teorema che porta il suo nome che vi leggo per ogni campo numerico k c'è una corrispondenza bionivoca tra le estensioni abeliane finite di k in una chiusura algebrica fissa di k e i gruppi di classe ideali generalizzati definiti con modulo k allora direi che non c'è bisogno di nessuna spiegazione chiarissimo per tutti e quindi passiamo ad altro dunque la sismologia la scienza diciamo dei terremoti è stata fu una delle prime scienze in Giappone a raggiungere un livello paragonabile a quello dei paesi più avanzati e questo poi ovviamente non sorprende visto che insomma il Giappone è un po il paese dei dei terremoti e vedete questo giornale di di San Francisco del 1960 del 1906 si riferisce al a Omori come al più grande sismologo del mondo non so se fosse vero che cosa era successo che Omori dopo il famoso e disastroso terremoto di San Francisco del 1906 qualche mese dopo si era recato a San Francisco e aveva fatto degli studi delle perizie e aveva sostanzialmente rassicurato la popolazione dicendo che per un po diciamo la la temibile faglia di Sant'Andrea li avrebbe lasciati in pace e infatti qui c'è scritto che il professore predice lunga calma sostanzialmente dunque infatti Omori una delle cose che faceva era appunto girare il mondo per studiare cause e effetti dei terremoti e infatti fu anche a Messina dopo il famoso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 e consigliò tra l'altro di costruire le case in un modo diverso da come erano fatte allora e Omori che come al solito si era laureato all'università di Tokyo produsse molti lavori importanti tra cui alcuni modelli matematici ancora in uso e inventò anche dei nuovi strumenti come questo qua che viene appunto chiamato sismometro di Omori allora la Kamine Jokichi è il primo grande chimico giapponese e molti altri ne verranno come del resto verranno molti altri grandi matematici e fisici nel novecento dunque lui era un samurai di nascita anche lui si laurea all'università di Tokyo e dunque una curiosità che lui da bambino aveva imparato l'inglese a Nagasaki da una famiglia olandese vi ho detto prima che di fronte a Nagasaki c'era questa isoletta dove c'era questa colonia gli olandesi e infatti dicono che si si portò sempre dietro questo questo inglese che parlava bene però con un forte accento olandese e comunque l'inglese gli servirà perché lui perfezionò i suoi studi stranamente non in Germania ma in Scozia tra il 79 e l'83 ritornato in Giappone aveva più o meno una trentina d'anni Takamine ottiene il suo primo risultato importante riesce cioè a estrarre un'enzima importante da una muffa da un fungo che si chiama aspergillus orize che i giapponesi chiamano kojikabi e perché è importante questo fungo questa muffa perché da secoli i giapponesi utilizzano questo fungo per fare fermentare la soia e i cereali per fare ad esempio la salsa di soia o le bevande alcoliche un po' è l'eroe un po' come da noi saccaromiceti sono importantissimi per fare per il vino la birra e la lievitazione del pane ecco per i giapponesi l'aspergillus orize che è anche lui un fungo come come lievito lievito è un fungo unicellulare dunque che cosa ha fatto Takamine praticamente è riuscito con grande fatica a estrarre l'enzima dal fungo e ha brevettato il metodo di estrazione dell'enzima e ha battezzato gli ha dato marchio sostanzialmente tacca diastasi tacca naturalmente viene dal suo nome e le diastasi allora le diastasi o ecco con una parola più generale le amilasi sono degli enzimi sapete il suffisso in asi indica un enzima transaminasi proteasi eccetera eccetera allora le amilasi o diastasi sono degli enzimi cioè delle proteine sostanzialmente delle proteine tutto fare gli enzimi lo ricordo che cosa fanno sostanzialmente velocizzano enormemente catalizzano come dicono i chimici velocizzano le miriadi di reazioni chimiche fondamentali in tutti gli esseri viventi dai batteri alle sequoie agli esseri umani che cosa fanno in pratica le diastasi o le amilasi adesso d'ora in poi le chiamiamo amilasi che cosa fanno rompono hanno il ruolo diciamo di rompere la di rompere le enormi molecole dell'amido in zuccheri più semplici dunque abbiamo abbiamo tutti fatto così abbiamo tutti una certa familiarità in realtà con le amilasi anche se magari non lo sappiamo perché le amilasi sono un'amilasi è presente nella saliva abbiamo fatto tutta l'esperienza di masticare a lungo che so il pane o i crackers e dopo un po il sapore diventa dolce perché perché le molecole dell'amido il pane e la pasta sono soprattutto amido le molecole dell'amido sono state scisse in zuccheri più semplici oppure diciamo in parti più semplici e quindi parti sufficientemente piccole da poter stimolare i recettori del gusto della bocca perché ecco le molecole l'amido che cos'è l'amido è un è un carboidrato complesso cioè uno zucchero complesso è una grande molecola un' enorme molecola formata da centinaia o di migliaia o da migliaia di zuccheri semplice di glucosio sostanzialmente ecco però l'amido la molecola dell'amido è così grande che non riesce a stimolare i recettori del gusto della bocca mentre quando viene rotta i pezzi più piccoli riescono a stimolare il gusto della bocca e sentiamo il sapore dolce mentre l'amido di per sé non non sentiamo il sapore finché non entrano in azione appunto questi questi enzimi allora le muffe astregilius producono un enzima l'attacca di astasi che rompe o idrolizza come dicono i chimici l'amido in maltosio che è uno zucchero di saccaride cioè fatto da due molecole condensate diciamo di di glucosa e che cosa serve e può essere usato in realtà in vari modi nell'industria alimentare gli enzimi di ogni tipo sono usati anche nell'industria alimentare per appunto catalizzare le reazioni è usato soprattutto ad esempio nella produzione di bevande alcoliche insomma tacamine si trasferisce negli usa negli stati uniti dopo questa scoperta e in realtà lui aveva già sposato un'americana in un precedente soggiorno a new orleans abbiamo visto che sapeva parlare l'inglese bene e nel 94 brevetta il processo di estrazione dell'attacca di astasi vende il suo brevetto in america a un'industria farmaceutica e diventa ricco molto ricco e così si trasferisce a new york nel 98 e mette su un suo laboratorio e nel 1901 ottiene il suo successo scientifico più grande cioè riesce a isolare l'adrenalina dalle ghiandole surrenali di pecore e di voi questa qui è la molecola dell'adrenalina e ecco l'adrenalina come come è noto è uno degli ormoni più importanti del corpo umano e di molti animali è è prodotta insieme insieme ad altri ormoni dalle ghiandole surrenali che come dice la parola si trovano sopra i reni ecco la stessa parola adrenalina viene dal latino ad rene cioè nei pressi del rene sostanzialmente significa e insomma conosciamo tutti gli effetti fisiologici causati dall'adrenalina quando le ghiandole surrenali la immettono nel sangue sono cose che sentiamo bene come l'aumento della pressione del battito cardiaco del ritmo respiratorio sostanzialmente l'adrenalina predispone il corpo alla lotta o alla fuga il corpo di un animale alla lotta o alla fuga per questo questi queste reazioni fisiologiche predispongono appunto a combattere o a scappare dunque l'adrenalina era già nota in realtà da alcuni anni non è che lui abbia scoperto l'adrenalina semplicemente nessuno era ancora riuscito a isolarla cioè a ottenerla in forma pura e lui ci riesce e il suo exploit del 1901 apre la strada tre anni dopo alla sintesi dell'adrenalina da parte di altri scienziali cioè tre anni dopo l'adrenalina verrà creata in laboratorio con una serie di reazioni chimiche senza quindi più il bisogno di doverle estrarre estrarre dagli animali quindi questo succede molto spesso con molte molecole organiche o biologiche prima bisogna si isola e poi i chimici imparano a sintetizzarla e quindi ecco un chimico veramente notevole e notevole anche quest'altro chimico sul quale però non vi non vi racconterò la sua storia perché perché l'ho già fatto ecco se andate sulla home page della del centro studio d'arte estremo orientale in fondo ci sono delle dei file audio ecco uno di questi si chiama la scoperta dell'umani il quinto sapore ecco e lì ho raccontato la storia di che da chi chiama è e della scoperta del quinto gusto d'umami e ecco un'altra cosa che ha brevettato che ha prodotto brevettato è il glutamato monosodico ecco però se vi interessa questa cosa andatevi a sentire questo questo file audio allora adesso parliamo dobbiamo parlare di vitamine dunque le vitamine lo ricordo sono delle sostanze essenziali che dobbiamo per forza assumere con la dieta perché il nostro corpo non è in grado di produrla ad esempio noi dobbiamo assumere la vitamina c mangiando frutta e verdura ma la mia gatta invece per procurarsi la vitamina c non ha bisogno di mangiare frutta e verdura perché è il suo fegato che sintetizza la vitamina c l'acido ascorbico infatti lei non deve assumerla con il cibo credo che non avrete mai visto un gatto mangiare frutta e nemmeno verdura non ne hanno semplicemente bisogno e invece noi sì noi dobbiamo assumere certe sostanze importanti con la nutrizione e è proprio per questo adesso devo parlarvi del beriberi e vedremo dopo che cosa c'entrano i giapponesi dunque il beriberi è una malattia forse lo sapete oggi non ci fa più molta paura anche solo per questo nome vagamente ridicolo ma nel passato era piuttosto frequente questa qui è una foto dei primi del novecento e vedete come è ridotto un corpo che ha questa malattia era frequente soprattutto in asia dove la fascia molto spesso le persone più povere mangiavano riso bianco e basta o diciamo o quasi un riso bianco nient'altro o quasi e proprio qui sta il problema come vedremo fra poco il problema sta in una carenza vitaminica allora questa malattia il beriberi è attestata per la prima volta in cina nel quarto secolo e come ho detto continuò a essere endemica in asia e in altre parti del mondo fino a tempi non lontani dunque qui ecco per capire un po che cosa è successo negli anni negli anni 70 80 in Giappone con il beriberi è necessaria una breve digressione anni 70 80 sono gli anni nella storia della medicina della nascita della microbiologia della microbiologia a opera soprattutto di pasteur lui pasteur era francese e di robert koch che era tedesco e parleremo di robert koch e del Giappone la prossima volta insomma la nascita della microbiologia fu una vera rivoluzione non solo nella storia della medicina ma nella storia dell'umanità non è azzardato dirlo perché si scoprì inequivocabilmente che quasi tutte le peggiori malattie che avevano funestate continuavano a funestare la vita umana erano malattie infettive cioè malattie dovute a agenti patogeni microscopici quindi come disse pasteur l'importanza dell'infinitamente piccolo è infinitamente grande e cosa cos'erano questi agenti patogeni microscopici erano batteri soprattutto erano virus ma allora in quegli anni non era possibile vedere i virus virus sono troppo piccoli per poter essere visti con i microscopi ottici bisognerà aspettare i microscopi elettronici negli anni 20 e 30 del novecento per riuscire a vedere i virus quindi batteri virus ma non solo anche protozoi quindi esseri unicellulari ma più grandi più complessi dei batteri come le amebe ma anche funghi microscopici che causano alcune malattie oppure piccolissimi vermi vermi microscopici insomma in quegli anni speto anni 70 80 si cominciano a individuare uno per uno i microorganismi responsa soprattutto batteri responsabili delle peggiori malattie insomma è un momento di grande entusiasmo e sull'onda di questo entusiasmo molti molti medici biologi arrivarono a pensare si spinsero fino a pensare che tutte le malattie fossero infettive e naturalmente non è così oggi lo sappiamo ci sono un sacco di malattie che sono il diabete o la sclerosi multica che non sono malattie infettive non sono dovute a germi insomma intorno al 1880 anche il beriberi era considerato dai più come una malattia infettiva ma nel 1884 takaki kanehiro che lui era un medico della marina militare ipotizza invece che i beriberi sia dovuto a una dieta insufficiente allora in quegli anni sulle navi della marina militare giapponese il riso bianco era gratis ma se un marinaio voleva mangiare altro doveva pagare un supplemento e allora molti per risparmiare cosa facevano mangiavano solo riso bianco e si ammalavano e quindi takaki scopre che se sostituisce la razione di riso bianco con una razione che contiene anche che so orzo o verdure o proteine animali il beriberi migliora o scompare però la marina militare non è convinta e poi insomma un rancio così ricco per tutti era anche molto costoso e quindi la cosa non avrà molto seguito e sarà solo nel nel 1897 cioè 13 anni dopo che un olandese che si chiama eikman si chiamava eikman che vincerà poi premio nobel per la medicina molti anni dopo eikman scoprirà che il riso integrale impedisce il sorgere del beriberi però eikman non sapeva perché lui pensava erroneamente che il beriberi fosse dovuto a una qualche sostanza usata nel processo di lavorazione del riso nella brillatura del riso oppure nella pilatura è il processo con cui si toglie la crusca del riso cioè il tegumento quindi a questo punto entra in scena suzuki umetaro ecco lui era di famiglia contadina come gli altri si laurea all'università di tokyo e come quasi tutti gli altri studia in germania dal 1901 al 1906 e non gli poteva andare meglio perché divene allievo di emil fisher uno dei più grandi biochimici di tutti i tempi vincitore di due premi nobel nel 1910 suzuki riesce a estrarre dalla crusca di riso e qui si ricollega a eikman riesce a estrarre dalla crusca una nuova sostanza quella che oggi chiamiamo tiamina o vitamina b1 che è questa qua lui la chiamò con un altro nome e scopre quindi che la causa del beriberi è non è un batterio non è una sostanza usata per la lavorazione del riso ma è la deficienza di tiamina nella dieta la deficienza di vitamina b1 nella dieta e allora questa scoperta gli sarebbe probabilmente valsa il premio nobel ma purtroppo quando il suo articolo sulla tiamina viene tradotto in tedesco che era un po allora la lingua più importante per questo in questo campo il traduttore omette di riportare che si trattava di una sostanza nuova cioè di una nuova scoperta e così l'articolo sostanzialmente passa quasi inosservato e alla fine poi eikman vincerà il premio nobel però la scoperta era importantissima perché perché la tiamina fu il primo complesso vitaminico a essere isolato nel 1912 due anni dopo un polacco che si chiamava casimir funk conia inventa il termine vitamina e altre vitamine vengono poi isolate gran parte delle vitamine che oggi conosciamo vengono isolate negli anni seguenti dunque ho detto prima che il beriberi è quasi scomparso in realtà resta ancora un po in alcune zone dell'africa nera e poco altro ma c'è alcuni anni fa è successa una cosa abbastanza strana cioè all'ospedale di parma è stato ricoverato un uomo di 78 anni che aveva dei sintomi stranissimi di qualche malattia che i medici non riuscivano a capirlo ovviamente i medici di parma non avevano erano abituati a vedere dei pazienti con i beriberi perché quest'uomo sostanzialmente erano anni molti anni che si nutriva esclusivamente di castagne e di miele di castagne fatto da lui evidentemente la considerava una dieta salutare purtroppo invece la carenza di vitamina b1 gli aveva causato il beriberi e quindi vedete qui non è la povertà non è la miseria ma è è una delle follie dietetiche dei nostri tempi che ha causato questa questo ricovero dunque oggi e nella prossima conferenza parleremo di scienziati e non di inventori però voglio solo ricordarne uno che è il più famoso sicuramente il più famoso inventore giapponese dell'era meiji toyoda sakichi che a partire dal 1896 inventò vari telai automatici come questo che vedete qui per la tessitura naturalmente che erano all'inizio alimentati con delle macchine a vapore ecco qui vedo questa cinghia immagino fosse legata all'albero principale della fabbrica che ruotava grazie a una macchina a vapore un'altra curiosità è che il figlio di toyoda sakichi cambiò il suo cognome in toyota e fu il fondatore della toyota automobili e non è un'altra cosa che ruotava grazie a la visione è un'altra cosa che ruotava grazie a tutti